Qual è stato il tuo percorso? Quando è che sei arrivato in Italia la prima volta? Hai scelto di frequentare un corso Master ICF in Italia per quale motivo? Che cosa ti ha portato poi dopo questo corso fatto in Italia? Qual è stato il tuo percorso di lavoro qua in Italia? Come dire, mi ha portato un altro tipo di cultura, un altro tipo di cultura, un altro porto diciamo Nel corso Master che hai fatto c'era un periodo di stage, dove hai fatto lo stage? L'antica coloniale Quindi a Cuneo? Si, si si si, è la Cuneo E dopo come è andato avanti il tuo percorso di formazione? E adesso invece attualmente dove lavori? Lavoro E adesso invece attualmente dove lavori? Posca Letto Resort E un albergo cinque stelle russi E qual è il tuo ruolo dentro il ristorante? Il mio cuore secondo cionico E' una cionicina E' un nuovo prodotto, l'animo Euro E' un nuovo company L'animo Euro E' un nuovo prodotto con l'animo Euro E' un prodotto che ho tenuto E' un prodotto di costruzione E' un prodotto E' un prodotto di costruzione Un po' di fresco, perché c'è un po' di più francese, molto pesante, molto pesante, molto pesante, molto pesante, molto pesante, molto pesante, molto pesante. E' un po' di più francese, molto pesante, molto pesante, molto pesante. Tu sei contento di essere rimasto in Italia? Ti piace l'Italia? Si, si, se non piace l'Italia, è lungo, se non piace l'Italia. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Hai intenzione di restare in Italia, di continuare a lavorare in questo ristorante o hai altri progetti? Guarda, sto pensando in altri progetti, perché, diciamo, sto dicendo in Italia, è troppo tempo che non sono da mia famiglia. Allora, adesso, sto pensando che tornare in Cina faccio qualcosa, io... Giù, non c'è un cattino. Tuttavia, sai cattino? No, sai cattino. Sì, in cattino cattino cattino. In Italia cattino? In Italia cattino, ma... In Italia cattino, ma... In Italia cattino, ma in un cattino, in un cattino, ma in un cattino in Italia, in un cattino, in un cattino, in un cattino. Tu consiglieresti a un giovane cuoco cinese di venire in Italia a fare il nostro corso? Credi che questo lo aiuterà nel suo lavoro in cucina, anche in Cina? E' difficile, tanto sacrificio, quello che ho fatto in 12 anni, ma se lo dimentichi, quando hai questo passione, ti aiuterai a cambiare il nostro corso. Ok, grazie. Prego. Lo sapevate che c'è una sede Ichif a Shanghai? Sì, sì. Adesso la sede è stato in Pudone, di Pfanzhou, di sottovole. È un loro nostro storo, se crediamo, quando vog ho provato in Italia, poi puoi provare i cani di noi con i cani di noi. Poi poi, poi puoi provare i cani di 3 mesi, Poi in Italia, poi puoi provare i cani di unico ACIP. Master. Voi consiglierete questo percorso a degli studenti cinesi? Diciamo sì, sì, ma perché? Però deve avere grande passione, se no non viene. Questo è un percorso che può portare a un grande successo, come dimostrate voi due con l'esperienza e il successo che avete avuto in Italia. Questo dipende da ogni persona, diciamo, dipende da ogni persona. Io spero che ogni persona la sua storia è diversa, non tutti uguali, però se diciamo… Fan, cosa pensi? Ah, penso… io penso, sono… se hanno avuto un'unità a studiare, credo è un problema. Se hanno avuto un'unità, è un problema. Io non posso dire così. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.